Il corpo della donna era stato trovato martedì mattina da alcuni passanti con la testa fracassata. Il corpo della donna era stato trovato martedì mattina da alcuni passanti con la testa fracassata da alcuni passanti con la testa fracassata. E forse rivelare alcune tracce dell'assazzino grazie all'esame del DNA che verrà effettuato da una genetista. Si cercano infatti frammenti biologici per poter così isolare il DNA dell'omicida. L'attacca effettuata giovedì scorso intanto avrebbe escluso la presenza di proiettili e di fuori di uscita di un colpo di un'arma da fuoco. Altre risposte potrebbero invece fornirle i tabulati telefonici al vaglio degli inquirenti. Dalle ultime chiamate e dagli ultimi sms potrebbero emergere alcuni nuovi particolari sulle ultime ore di vita della donna.